Rubano Bancomat a novantenne, denunciati due francesi, la polizia individuata i responsabili del futto, avvenuto un anno fa in via Nino Bixio a Chiavari. Un'edici siopero dei lavoratori, gruppo Banco BPM, caso Diamanti, i sindacati chiedono che l'azienda rifonda integralmente alla clientela gli investimenti. Expo Fontana Buona, arrivano i fondi, interrogazione della minoranza in regione all'assessore competente. Buonasera dal TG Tiguglio, Rubano e Bancomat ad un novantenne di Chiavari, denunciato una coppia di francesi. Gli agenti del commissariato di polizia di Chiavari hanno denunciato una coppia di francesi, considerati irresponsabili del furto di una tessera Bancomat ai danni di un novantenne lo scorso maggio dello scorso anno, nelle vicinanze della filiare della BNL di via Nino Bixio a Chiavari. Secondo quanto ricostruito da polizia, i due, lui di 41 e lei di 39 anni, hanno utilizzato una tecnica consolidata per furti di questo genere. Appostati nei pressi del Bancomat, infatti, hanno aspettato che un soggetto debole effettuasse un prelievo. Dopo aver adocchiato il PIN, hanno fatto cadere a terra una banconota, fingendo che fosse della vittima, per poi sfilare la tessera appena espulsa dal Bancomat e sostituirla con un'altra. La stessa tecnica era stata utilizzata proprio a Chiavari, anche da altri due malviventi, a loro volta individuati e denunciati dalla polizia. Lunedì 20 maggio sciopereranno i lavoratori del gruppo Banco BPM di Genova e provincia. Lo sciopero è stato proclamato da FABIF, FIRST, CISL, FISAC, CGL, UILCA e UNISIN. Lo sciopero, spiegano i sindacati, vuole rivendicare la dignità dei bancari che si smarcano nettamente dai banchieri, i quali devono assumersi le proprie responsabilità, rifondendo integralmente alla clientela gli investimenti in diamanti. Secondo i sindacati, i lavoratori hanno sempre agito in buona fede, avendo ricevuto informazioni fuorvianti sulle caratteristiche dell'investimento in diamanti. Lo scorso 29 aprile è fallito un tentativo di conciliazione. I lavoratori, concludono i sindacati, sono vittime pari dei clienti e non sono quindi responsabili di quanto avvenuto. E ora parliamo di Expo Fontana Buona. La regione sta lavorando alla delibera per il finanziamento. Speranze per Expo Fontana Buona. Sul tema, la minoranza consigliare in regione ha illustrato un'interrogazione preoccupata per le voci che vedevano la manifestazione a rischio. La minoranza, evidenziato come Expo Fontana Buona, sia di grande importanza per lo sviluppo e la promozione delle attività della Val Fontana Buona. La giunta regionale ha spiegato che ogni anno la regione finanzia sia le storiche Expo dell'entroterra Ligure sia eventuali nuove iniziative a favore del sistema economico regionale. A tal fine, ha fatto sapere la regione, è in corso di stesura una delibera con la quale la giunta intende mettere a disposizione delle Camere di Commercio Liguri le somme specifiche per le finalità indicate. La Val Fontana Buona è a Rapallo perché è stato inaugurato il molo Duca degli Abruzzi oggetto di un intervento di rifacimento a cura del porto turistico Caolo Riva in sinergia però con il comune di Rapallo a seguito dell'amareggiato lo scorso 29 ottobre. I lavori sono stati programmati per riportare la situazione alla normalità in tempo per l'inizio della stagione turistica. Tanto domani nella notte tra giovedì e venerdì ricordiamo che verrà posizionata la passarella pedonale di collegamento tra via Milano e via Torino sul torrente Boate all'altezza del campo sportivo Macera. Per consentire i lavori via Torino sarà chiusa al traffico dalle 18 di domani, giovedì 16 maggio, fino alle 7 di venerdì 17 maggio. Un sentiero carrozzabile nel parco di Portofino è un'ipotesi lanciata da Regione Liguria. Un sentiero carrozzabile al parco di Portofino è l'idea di Regione Liguria in risposta ad un'interrogazione della minoranza relativa agli interventi post-mareggiata del 29 ottobre scorso che hanno interessato i sentieri Gave e Mulino del Gazzetta. Durante la fase dell'emergenza era stato gettato del cemento, ma entro il 15 aprile era previsto il ritorno allo stato originale per i due sentieri. La Regione ha risposto che alcuni interventi di ripristino sono già stati effettuati, ma ha anche annunciato l'apertura di un tavolo di lavoro per verificare se sia possibile mantenere alcuni degli interventi effettuati durante la fase dell'emergenza, a fronte appunto di un progetto più ampio di un sentiero carrozzabile. È online, interamente rinnovato, il sito internet del Comune di Portofino. Nel portale gli utenti possono trovare news, eventi, informazioni e sezioni dedicate a trasparenza e albo pretorio. E poi ovviamente anche tante immagini che mostrano la bellezza del borgo. L'obiettivo fa sapere il Comune di Portofino è quello di avere un portale interattivo e intuitivo per cittadini, turisti e visitatori. Fine settimana di eventi a Chiavari e questo avrà delle ripercussioni sulla viabilità. Vediamo quali. Da venerdì 17 a domenica 18 maggio si svolgeranno diversi eventi a Chiavari. L'esibizione del funambolo Andrea Loreni e Chiavari in Fiore, nonché la marcia città di Chiavari. E quindi con ripercussioni sulla viabilità. Piazza Matteotti dunque sarà chiusa al traffico dalle 15 di venerdì fino alle 23.59 di domenica. Sabato e domenica saranno poi chiusa al traffico via Martiri della Liberazione, il Caruggio, via Vittorio Veneto, via Rivarola, piazza Mazzini e Corso Garibaldi fino all'incrocio con via Del Pino. Domenica inoltre dalle 9.45 a mezzogiorno saranno chiuse via Intella, all'altezza di via Massala e del passo alla Clarisse ed il tratto tra via Ravaschieri e via Raggio fino a via delle Vecchie Mura. Sempre domenica le altre vie attraversate dalla marcia saranno chiuse solo al passaggio degli atleti. La pittrice Maria Cristina Rume, originaria di Lavagna, partecipa al Museo Dio Cesano di Gubbio, alla mostra artisti in contemporanea. Le opere scelte che resteranno esposte fino al prossimo 26 maggio sono Ecce Omo e Riflessione. Si tratta di un grande privilegio, dice l'artista lavagnese. La selezione di Gubbio è sempre un traguardo importante. Il fatto che siano state scelte due mie opere mi inorgoglisce, anche perché mi sento di rappresentare tutto il Tiguglia a un evento così importante nel panorama artistico italiano. E ora parliamo di sport. Nel fine settimana a Chiavari torna la grande vela con l'X-Yachts Mad Cup. Lo Yacht Club Chiavari alla Lega Navale, sezione di Chiavari e Lavagna, organizza per il 17, che poi però si continuerà anche fino al 19, la X-Yachts Mad Cup. Di cosa si tratta? È una regata che chiude la nostra stagione di regate primaverili ed è una regata riservata alle imbarcazioni del cantiere X, cantiere di fama mondiale danese, che fa delle barche meravigliose. Noi organizziamo questa regata che si svolgerà davanti a Chiavari, sarà un triangolo, un bastone a seconda delle condizioni del vento e sarà sia sabato che domenica. Le classi ammesse saranno Orc, Irc e Crociera e speriamo di avere un bellissimo tempo. Vogliamo dare qualche indicazione di orario così per gli appassionati? La partenza sabato è prevista per le 11.30. Domenica verrà fissata dai giudici in base alle condizioni sabato sera. Come dicevo è una regata che chiude il ciclo delle regate primaverili della Yacht Club Chiavari. Ci stiamo avvicinando all'estate quindi scuola vela? Certo, ci inizieranno il 10 giugno i corsi di scuola vela per i ragazzi e prepareremo nel frattempo le regate d'autunno, la Memoria Gavino, Coppa dall'Orso e regata sociale settembre-ottobre. Quella di quest'anno è la seconda volta tra l'altro consecutivo in cui si svolge la X Yacht Med Cup a Chiavari. Sì, come importatori dell'omonimo cantiere danese abbiamo deciso di frequentare nuovamente il Golfo del Tiguglio che riteniamo una vera perla a livello sia italiano che internazionale che nel Mediterraneo. È la seconda edizione, cerchiamo e ci impegniamo per portarne magari anche una terza perché dando continuità a questi eventi si riesce ad aumentare la partecipazione. Abbiamo visto un'ottima partecipazione anche da parte delle istituzioni, un'ottima partecipazione di pubblico per cui noi che abbiamo base a Chiavari teniamo molto a questo Golfo e teniamo molto a portare i nostri armatori in questo bellissimo scenario. L'azienda danese festeggia anche i 40 anni? Sì, è un'azienda storica nel mercato della nautica a vela mondiale e quasi in contemporanea, due settimane dopo in Danimarca ci sarà quella che i danesi chiamano la Gold Cup che è un evento a livello mondiale che vedrà oltre 100 barche partecipanti. E concludiamo con una notizia di un evento che si è svolto domenica scorsa al ristorante Ocasti Giun a Coscenti nel Comune di Nei. Il pranzo sociale dell'Avis di San Colombano, Certenoli, Vincenzo Rossi, Giovanni Tomo e Bernardino Vitale hanno ricevuto la benemerenza e il distintivo in argento dal presidente Franco Bevilacqua. Ricordiamo i componenti dell'Avis di San Colombano, Certenoli, oltre a Franco Bevilacqua anche Valeria Arado, Alessia Rossi, Elena Carpicci, Matteo Vaccaro, Andrea Bevilacqua, Franco Amadori e Roberta Chigeri. Andrea Loreni, il funambolo performer più famoso d'Italia, arriverà qui a Chiavari il 17 maggio, a partire dalle 18.30, si esiberà in Piazza Matteotti. Quali sono le impressioni, lo stato d'animo e l'attesa? La piazza è super, quindi l'attesa è alta e l'attraversata sarà, credo, molto suggestiva. Poi il fatto che si ripeta dopo 100 anni un evento nella stessa piazza, per me ha un bel significato, nel senso che ogni volta che scendo da un cavo poi risalgo su un altro sembra che riprenda lo stesso cavo che avevo lasciato la volta scorsa, c'è una sorta di continuità temporale tra le mie traversate e mi piace immaginare che ci sia anche una continuità temporale tra l'attraversata fatta qua a 100 anni e quella che faremo noi il 17 maggio, qua a Piazza Matteotti a Chiavari. Il fil rouge che l'accompagna nelle sue traversate è la meditazione e lo zen, quindi qual è l'apporto di questa pratica per il suo stato d'animo? Beh, ho iniziato a camminare sul cavo 13 anni fa e allo stesso tempo ho iniziato a praticare la meditazione. Adesso le due cose sono molto collegate, una alimenta l'altra, nel senso che quel poco che ho capito dello zen l'ho vissuto sul cavo e dall'altra ho cercato di riportare sul cavo una condizione di rilassatezza e di respiro profondo e naturale che si può provare sedendo in meditazione, quindi il circolo è un pochino questo qua, tra le due discipline. Cosa ti aspetti da questa piazza? Quali sono le tue aspettative di questa giornata imminente? Ma guarda, cerco sempre di non avere troppe aspettative per non avere nessun tipo di disattesa o disillusione perché per camminare sul cavo deve essere proprio pronto a prendere qualunque cosa accada e quindi quello che sarà, spero io di riuscire a essere appunto abbastanza aperto da abbracciare qualunque cosa possa succedere il 17. La traversata si colloca all'interno di una pianificazione più grande, quindi all'interno di un programma sponsorizzato dal Circo dei Sogni, ce ne può parlare? Certo, io in qualche modo sono arrivato qua grazie a questo evento che ho organizzato dal centro Anidra e personalmente sono entrato in contatto con Federico. L'attraversata di venerdì sarà l'apertura, l'opening act del festival che si svilupperà anche poi sabato e domenica al centro Anidra. Ricordo che dopo l'attraversata ci sarà anche una sorta di talk pubblico, nel senso che ci sarà un palco allestito in piazza per un confronto più diretto col pubblico che avrà assistito all'attraversata. Quindi vi aspetto tutti venerdì. Federico Torre, organizzatore del Circo dei Sogni, la rassegna di arti circensi in programma presso il centro Anidra. Ci spiega brevemente l'iniziativa del funambolo all'interno di questo programma e come continuerà poi questo weekend presso il centro Anidra. Sì, Andrea Loreni è un amico che abbiamo coinvolto per fare questo grande preludio al festival che è il Circo dei Sogni che fa partecipare gli artisti che faranno una sorta di introduzione in piazza Matteotti all'esibizione di Andrea e daranno come dire una cornice che ha un po' il senso di far salire la temperatura prima della grande traversata. Abbiamo artisti che scalderanno la prima mezz'ora come si vuol dire la piazza, poi abbiamo il grande, varie associazioni sono queste che vengono un po' da tutto il nord Italia e poi abbiamo il grande Nicola Bruni di Spazio Bizzarro che è già stato quest'anno a X Factor e che si esibirà sul palco per un'esibizione di Roussir che è come dire la ruota di Leonardo dentro la quale lui farà delle evoluzioni magnifiche. La musica dal vivo poi a introdurre Andrea Loeni e quindi la traversata. Questo è il contesto del Circo dei Sogni che proseguirà poi i due giorni successivi al centro nidra di Borzonasca immerso nella natura per proporre un'idea di circo senza animali diverso basato sulla valorizzazione delle performance degli artisti e insomma cercando di levare tutta la parte legata un po' a un utilizzo anche degli animali che sinceramente non ci piace. Quindi ci vediamo venerdì 17 a partire dalle 18.30 in piazza Matteotti. La sabato 18 maggio presso il Comune di Lavagna si terrà la ventunesima edizione della gara regionale di primo soccorso denominata dei Fieschi. Questa importante manifestazione parteciperanno tutte le squadre provenienti dalla Liguria, di personale afferente dal corpo militare, dalle infermiere volontarie e dai volontari della Croce Rossa di tutta la Liguria. Quello che verrà richiesto alle squadre partecipanti sarà di mettere in pratica le conoscenze tecnico-didattiche apprese già a partire dai primi corsi di accesso alla Croce Rossa. La competizione di soccorso si articola in numerose simulazioni di incidenti definite stazioni di prova intercalate da alcune stazioni di sosta, numerate in modo progressivo secondo un percorso prestabilito che si terrà lungo tutto il centro cittadino. Le stazioni di prova possono prevedere una situazione statica o sceneggiata, simulante, un incidente può essere stradale, sportivo, familiare, casalingo, disvago e altre eventuali prove connesse alle altre aree di attività della Croce Rossa. Le squadre iscritte partendo da una stazione, da un punto prestabilito e seguendo un percorso ad anello si sfideranno in questa competizione. La squadra verrà valutata da giudici della Croce Rossa italiana in base alle tecniche di primo soccorso, all'utilizzo dei presidi ove previsti, alle priorità assegnate ai diversi casi, alla chiamata di soccorso e verrà dato un punteggio. Lo staff della gara che si terrà questo sabato 18 è di circa 150 volontari che interverranno sul territorio lavagnese e approfittiamo di Entella TV per scusarci per gli eventuali disagi che arrecheremo alla popolazione. Questa gara avrà una squadra vincitrice, le squadre saranno sei e avrà una squadra vincitrice e questa andrà a settembre a rappresentare la Liguria presso la gara nazionale che si terrà a Vicenza. Vogliamo ringraziare anche gli sponsor Spencer Italia SRL e Orion Veicoli Speciali. Quindi vi aspettiamo sabato 18 sul territorio lavagnese, sarà difficile non notarci. Grazie a tutti. Vettivamente di nubi, cumuli formine nelle ore più calde sui rilievi, localmente associati a breve piovaschi o rovesci. In serata a locali formazioni di nubi basse su centro ponente. Venti in prevalenza deboli, a regime di brezza con rinforzi pomeridiani da sud-ovest, ovest sui campi esposti sui rilievi di centro. Mare poco mosso a Levante, da poco mosso a mosso a Ponente. umidità su valori medi, temperature previste sulla costa tra i 9 e i 18 gradi nell'entroterra tra i 5 e i 18 gradi